31 gennaio 2015, al quarto scrutinio Sergio Mattarella ottiene 665 voti ed è il dodicesimo presidente della Repubblica. Il 29 gennaio 2022 sarà riconfermato per un secondo mandato come Giorgio Napolitano a cui succede. Palermitano, cattolico, giurista e figlio e fratello di esponenti politici come lui democristiani. Dopo l'uccisione del fratello Pier Santi, presidente della regione Sicilia per mano della mafia, avvenuta nel 1980, intensifica il suo impegno politico. Più volte deputato e ministro, Sergio Mattarella si occupa delle riforme dell'ordinamento statale ed è il primo firmatario di una delle ultime leggi elettorali. Nel 2008 non si ricandida e lascia la politica, occupandosi di diritto a tempo pieno. Nel 2011 il Parlamento lo elegge giudice costituzionale.